Allora, facciamo ancora un po' di musica, ma penso che sia venuto il momento che Gianni Conte addirittura ha detto che voleva invitare Debora a cantare insieme. Esattamente. Che dici, la facciamo questa accoppiata? Sì, ma vorrei accompagnarla principalmente. Ma c'è da volentieri il mio posto. E allora, col permesso del pubblico, ci alziamo per far passare Gianni? Sì, la facciamo questa accoppiata. E tutto il giardino adorava da rosa a cento bassi. Era di maggio, io no, non me ne scordo. Una canzone cantava in due voci. Che il tempo passa e che una ricorda fresca dall'aria è una canzone dolce. E diceva, cora, 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 cora mia lontana vai. Tu me lassei conto l'ora, chissà quando turnarrai. Quando tornano le rosa. Sì, la facciamo questa accoppiata. 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 Sist' un giorno doar la magia, pura magista lunga caia Per me è stato super emozionante, soprattutto essere accompagnata dal maestro è proprio un'emozione assurda